scusa scusa sono arrivato in bicicletta ho forato non avevo la camera d'aria per sostituire loro ho provato niente da fare ho dovuto caricare le spalle a fare 18 chilometri dalla bovisa fino a qua tranquillo nessun problema che poi oggi oggi era la puntata che si parlava di 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 cesenatico oggi si parlava di 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 tognazzi di di zavoli di cose cose meravigliose aspetta non mi ricordo più perché sono stanco non mi ricordo più di che cosa si parlava oggi aspetta ve lo dico ah ah verrà a trovarci in studio alessandro ballan che ci parlerà dei suoi giri ah correremo per le strade dell'emilia romagna insomma un bel giro direi 15 ottobre la puntata si però prossima volta vengo con la bicicletta assistita eh oh questa non dirla no scherzavo no scherzavo no scherzavo no scherzavo no scherzavo no scherzavo no scherzavo